DIMMI PERCHE SEI QUI CHE CI FA UN AMERICANO QUI IN INDIA STO CERCANDO UNA DONNA OK, TI AIUTO IO MA SE NE TROVI UNA Gli chiedi se ha un'amica, OK? Ho girato il mondo ed ho visto tante bonazze Ma il mio sogno è una donna per ogni nazione Quindi ora sei in cerca di un'indiana? Mi basta che sia del posto Wow, il bonazzometro Quindi mi vuoi dire che io per te sono solo l'America? Per aggiungere l'obiettivo vanno bene le vecchie Lasciala Sally, quella è mia! Isabella la cavalla, la conosci? No, è una MILF No, è giovane Ha 50 anni Drake, al tuo rivale mancano solo 6 nazioni Presto, non puoi perdere contro di lui! Ricordo che avevo scritto il numero di qualche bella gnocca No, per favore, le nonne no Io vincerò la scommessa Guarda che quello è un playboy Se vuoi, io sono per metà indiana Si potrebbe quindi... Eh, perché no? Ok, dopo di te allora, Corea Oppan Gangnam Style Oppan Gangnam Style Oppan Gangnam Style Grazie a tutti.